Cosa? Mi ha fatto un card! Adesso vado a prendere la cosa! Mi ha fatto ha ha ha! Ciao! Oh signore! Ma dimmi quando è allora? In descrizione. In descrizione tra l'evento ci siamo anche noi. Esatto. Mi raccomando. E trovata anche l'indirizzo per arrivarsi. Sì, sì. Oggi facciamo il torneo settimanale ragazzi. Su quel piede te lo taglio. Sai che lui ha il suo piede fetido, che gli piace perché prende? Prende il suo piede fetido e lo appoggia così al mio ginocchio. Mettila! Mi dà fastidio! Allora ragazzi oggi facciamo per la terza volta il torneo settimanale dove tu o io... Vedi, cannoniere e portiere della settimana. Io faccio il cannoniere, tu fai il portiere. Vediamo quanti punti... Che facile giusto? Non hai detto che è più facile. Giochiamo subito. Allora... È invisibile. È invisibile ragazzi. Cannoniere! Pum! Praticamente vi spiego come funziona. Voi dovete tirare queste punizioni e in base al punteggio finale... Ecco, attraversa. Hai già fatto due tiri? No, voglio rifare tutti i due i lanci. In pratica il mio tiro verrà parato da tantissimi portieri di tutto il mondo. E più gol riesco a fare, meno parate riescono a fare i miei tiri, più... Meno parate riescono a fare i miei tiri. Meno parate riescono a fare i miei tiri, Matteo. Meno parate riescono a fare i miei tiri, Matteo. Pam! Ok, perfetto. Adesso io ho fatto rifare... No, rifaccio il cazzo di punizione che non mi è venuto bene. Perfetto. E lo faccio così. Pam! Così. Boom! Perfetto. Goal perfetto. Adesso esco. E dobbiamo fare... La pubblicità dell'Alfa Romeo. La pubblicità dell'Alfa Romeo. Oh, pronto. Vediamo il punteggio che riesci a fare. Mi raccomando, fai bene, fai bene. Hai dieci parate tu, eh. Dieci parate... No! E intanto uno su dieci l'hai sbagliato. Vabbè, ho capito, ma fanno tu. Dopo lo faccio io, dai. Facciamo una testa. Che male, ragazzi. Benji! Benji Price! Che sta malissimo, evidentemente. Perché si lancia per terra. Attenzione! Il tiro! Benji Price! Perfortuna che ha tirato fuori. Sono butto tanto. 300 punti gli hai fatti. Attenzione a Fellai. Parte il tiro! La parata finalmente di Benji Price! Ce l'abbiamo fatta. Aspetta, aspetta. 100% questo che lo butta dentro. No, 100% e invece la parata. Invece la parata. Ok, diciamo. 361 punti. Spino la percentuale è nuovo! Questo è nuovo. Eeeeee! Fuorissimo! 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 Un mancamento uguale qui. Attenzione! Questo è al 100% con Cristiano Ronaldo! E' fuori di Bruno! Perfetto daко. Sì, però al 100% perché ha fatto un tiro, a qui. Ha fatto un tiro solo. Attenzione! Eeeee! Gran parata! Gran parata, dove dire. Gran parata! Sembrava che andasse alta. Esatto. Attenzione! Dall'altra parte, grandissimo! grandissimo Sei tredicesimo nel mondo. È da tanto tempo che non giochiamo. Sì attenzione Rinnegan tredicesimo al mondo di Final Kicks Che scavuta fuori. Dai, questo vediamo un po' eh, vediamo un po' parte il tiro, la parata di Taylor. Questa era facile però eh Attenzione, 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 la bomba! Una donna? Non l'ho neanche vista. Eh, sono donne? Attenzione, 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 di qua. Sì, oddio, come ho poca parola, non lo so, ma l'ho parata Ti dice, ma tirano tutti forte qua. Perché a te tirano piano e tirano forte? Eh, che culo! Eh, vabbè, ma scusami eh. Che culo! Allora c'è. Oh, no! Anche il gioco, stai dicendo che non è giusto Ma che grosso questo qui. Attenzione, parte il missile terraria, ma la parata che va dentro lo stesso La parata che va dentro. Ma vaffanculo, va, che sfiga, dai che la paro sta qui, fuori, ottimo 100 punti per me, facili facili. Juventus. È vero, Davide della Juventus Minchia, che bomba, ragazzi. Non l'ho neanche vista. Attenzione, Luis, la tira di qua, merda Eh, ma poi ormai, cioè. Eh, ti vedrai davanti. Sei tu, Benji, mica io. Attenzione, parte il tiro È troppo tempo che non giochiamo. È troppo tempo che non giochiamo. È troppo tempo che non giochiamo, per quello Attenzione, ha fatto 500 punti. Questo è il mio ultimo tiro per fare altri 100 punti. Niente, ragazzi. Io sono ancora tredicesio perché prende il tuo puntaggio. È il portiere del mondo. Eh, che livello ha sto Oh, questo qua ha il livello colonnello price. Eh, fuori. Mi sta bene. Ma che grosso è? Non so, mi fa paura però. Attenzione, la bomba! Ma quanto cazzo gira? Eh, rinneganne, rinneganne. Gira tanto. Attenzione, fuori. Madonna. Non mi muovo neanche. Ecco, dove ha tirato? Sì, non lo so, ma che ha tirato? Oh, dovunque, tranne che importa. Attenzione, questo è facile, dagli è... Non bene, eh. Eh, non è colpa mia, però. Attenzione, attenzione, parte il tiro, rinneganne. Ma vai! Ma era lì! Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Attenzione, 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 attenzione. Il tiro centralissimo. Ah, la preghiera che è stata ascoltata. Eh, la preghiera. The Mondial FC. Attenzione, parte il tiro davanti al punto. Ma dai! Ma perché? Non ce la fa. Una bomba a terra aria che va... Ah, non ce la fa. Incredibile. Eh, attenzione, la tira centralissima. No, eh, attenzione. Oh, attenzione. Eh, perché sei passato... 300 punti? Beh, rifacciamelo. Smetti, dai, che mi faccio fatto io 300 punti. Eh, infatti, bravo. Rifaccio io, rifaccio io. Io, 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 io. Beh, questa la pari, guarda. C'è la faccia di uno che la pari proprio, guarda, eh. Te così. E gliela pari male proprio! Gliela pari male! Lo sberle, stia attento. Aspetta un attimo, andiamo così. Questa la tira di qua... Qua... presa! Va bene, ma scusami! Mi hanno fatto i tiri, stronzi a me! Eh, lo so. Eh, boh, è prima a me, scusa. Ma l'hanno fatto solo che bene? Eh, giù di qua. Opla, presa, parata, 3 su 3. Non si passa con Taylor in porta. Attenzione, è la bomba a terra aria che va a essere presa male proprio per questo. Allora, adesso vediamo un po', questo qui tira a giro di qua, no! Tira a giro di qua, no! Stavo facile, perché? Tutti stai facendo tiri troppo semplice. Beh, insomma questo qui non era facile, eh. Eh, questo? Questo era semplicissimo e fatmo appararlo. Di ginocchio. Di ginocchio, il silenzio. Vediamo questo. Questo qui tira una bomba di qua! Siii! 700 punti d'agli. Pariamola, pariamola. Adesso tira a destra, tira a destra, tira a destra, centralissimo. Ecco. No, potevo superare Ti ristronzi adesso, vediamo Sì, impossibile Questa la paro, però Questa è mia, è la mia volta, è la mia volta È la mia volta, l'ho parato Ecco, è anche abbassata la posizione mondiale È stata la posizione mondiale Allora ragazzi, ho fatto il campionato Professionale, leggete bene Perfetto, adesso dobbiamo Praticamente fare un campionato e vincere le più partite possibili Quindi fece, parte lui col tiro Non la pare neanche se vuoi Perfetto, ora pare tu, dai Perfetto, questo è il Manchester City Oh, vediamo i miei giocatori stanchi Il portiere, no, il portiere, no Il portiere apposto, il portiere attenzione Uh, finta Non ce la faccio Perché mi tirai il telefono, devo tirare Perché voglio tirartelo e lanciartelo fuori Allora, Felice Guarda Guarda che roba Sì, sotto le gambe del portiere È felice ma non troppo Dai, dai, dove stai? Attenzione, Sterling? È stanchissimo, sta qui, tira male Ma perché? Ma hai visto anche tu? Perché tu è troppo piano Cioè, la fai troppo piano Attenzione, Mandingo Parte lui con la mina terraria Mandingo non si ferma davanti a niente Perché sotto il set è impossibile Bravo Bravo Non ne sto parlando una Oh, Rina, basta che ne pari una Perché io segno sempre Scavetto Ha scattato male Però lo stesso Però lo stesso No, ma scusami Cioè, scusami Cosa? Ma abbiamo un portiere in coglione Opla Vabbè Io se mi butto a destra Scusate, tira tu Io segno Io paro No Tira tu In sega Tira Tira Perfetto Perfetto Una bomba Terraria Non ne ne va bene una Anche la mia Devo parare Devo parare Zitto Che se non la parare Abbiamo perso Ma è frega niente Abbiamo perso Zitto Ma dai Ma vai via No, per me lo fai a posta Dai Ragazzi Ma vai via No, 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 no Oh Non abbiamo capito A cambio Niente Non te ne va bene Ma cazzo Vai via Cosa? Mi ha fatto un cazzo Cosa? Mi ha fatto ha ha Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Mi ha fatto ha ha